E da questo momento la cornetta può riprendere a fare fuori orario. Da questo momento lui, colonna cortante di Intergroup RCN, questa è la nostra notte. Lo salutiamo con le mani al cielo, sciocche! Da questo momento la tendenza paesana si chiama... Daniele Aperti! We're afraid for internet connection. Se l'ultimo anzido con una lazzurra, caduto da una nuvola per insegnare all'uomo musica digitale. And for it, you've been burned for a wider. Come on again, and with the internet connection. E la settore in musica che ti fa girar la testa? E la settore in musica che ti fa girar la testa? Andere, get it through! Perfiene, perfiene, perfiene. Perfiene, 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 perfiene. 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 Perfiene. Perfiene, perfiene. 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 Io sorrivo perchè sono vivo Io sorrivo perchè sono vivo Lui non è bene, a te Cosa fai lì? Ti chiedi? Alla volta da Pierova Pierova Lui vedai Lui 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 Grazie a tutti 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 Daniele Grazie a tutti 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 Grazie a tutti